I vini più buoni d'Italia nel borgo più bello d'Italia. Questo è lo slogan della Kermess Borgo di Vino, che si svolgerà a Pacentro dalle ore 19 del prossimo 12 agosto. Si tratta di un viaggio nei vicoli e nelle piazze di Pacentro, dove si potranno assaggiare i vini di dieci cantine di aziende italiane e ammirare l'arte, l'artigianato e la cultura. La manifestazione sarà pensata da Flora Pelino, una pacentrana che vive in America, organizzata dalla Prologo di Pacentro, con il supporto del primo cittadino Guidangelilli e dell'amministrazione comunale, del sommelier Massimo Maiorano e di Stefano Rossi, che si è occupato della direzione artistica. Con un biglietto che si potrà acquistare a un prezzo popolare, ancora da stabilire, si potrà percorrere un percorso adatto anche agli astemi, partendo da piazza Umberto I, passando per piazza del Popolo, per il vicolo del municipio e la gradinata del Colle, dove si potranno assaggiare dieci specialità di vini. Il tutto sarà arricchito da una mostra di quadri, da un'esposizione fotografica e dall'ottima musica affidata a due violoncellisti dell'Orchestra Filarmonica di Bologna e ai fratelli Marelli che suoneranno lo swing. Abbiamo puntato molto su questa manifestazione, cui ricavato verrà impiegato per sostenere le attività socioculturali della nostra comunità. Debbo ringraziare tutti coloro che credono nella rinascita di Pacentro, ha detto il sindaco Guido Angelilli. Le cantine che parteciperanno da tutte le parti d'Italia, ecco perché i vini più buoni d'Italia nel borgo più bello d'Italia, offriranno questi vini e con il ricavato di questa serata sarà utilizzato a seconda dell'entità per sviluppare dei progetti culturali e sociali di cui poi ovviamente daremo ampia comunicazione. Invitiamo tutti a degustare vini di altissimo livello e a trascorrere una serata all'insegna della bellezza in casa e sommelier Maiorano. È stato previsto un assaggio di addirittura dieci cantine vinicole che vengono da tutta Italia. Ci sarà una sola cantina abruzzese per intenderci, ma ci sarà una siciliana, ci saranno tre toscane, ci sarà anche da Montalcino per intenderci o da Castagneto Carducci, quindi parliamo di Bolgheri. Ci sarà un'azienda di Barolo, Barolo Paese in questo caso, che ovviamente ci sarà anche il Barolo in degustazione. Avremo due aziende dal Veneto, una nella zona del Gardesana, quindi del Lago di Garda, una nella zona del Prosecco, quindi del Trevigiano. Avremo un'azienda in degustazione che viene da Cormons, quindi parliamo di Friuli, grandi vini bianchi friulani. Avremo insomma la possibilità di degustare vini da tutta Italia. Stefano Rossi, direttore artistico, ha parlato di musica e amore per la fotografia che non mancherà nella Kermess. La parte musicale sarà coperta da artisti professionisti del settore, come ad esempio violinisti che fanno parte dell'orchestra filarmonica di Bologna, e da un gruppo rock swing italiano, composto da tre giovani ragazzi, con sede in Bologna, che si chiamano Fratelli Marelli. Sarà un momento alquanto bello, piacevole, soprattutto per quelle generazioni che hanno visto solo quelle canzoni dello swing italiano degli anni 50-60, ma lo stesso vale per quanto riguarda la cornice offerta dai violinisti, professionisti del settore, ripeto, che faranno una base musicale molto lieta e molto accomodante. Per quanto riguarda invece l'esposizione fotografica, si è deciso di non dare un tema, diciamo, fisso per la fotografia, ossia di lasciare i ragazzi accomunati da un tema unico, ossia la passione per la foto. Marina Pasqua, responsabile della Prologo di Pacentro, ha dato appuntamento a tutti per la serata del 12 agosto, che sarà caratterizzata da arte, artigianale e cultura. L'attivo della manifestazione, così come era nell'intento della nostra amica Flora, era proprio quello di promuovere il Paese, farlo conoscere e far vedere quello che il Paese offre e le potenzialità che ha. Per cui non abbiamo voluto fare una sagra, ma un biglietto da visita per chi verrà a visitarlo.